Dopo il no di Torino ai rifiuti siciliani, la reazione del ministro Galletti crocetta alla ricerca di mete alternative anche all'estero. Gero Miciche. La crisi dei rifiuti siciliani dopo il no di Torino e del sindaco Appendino dei 5 Stelle a riceverne alcune tonnellate investe anche Roma. Il ministro dell'ambiente Galletti si assume prontamente le sue responsabilità e ribatte, chi non vuole i rifiuti siciliani se la prenda con me. Il ministro bacchetta Chiara Appendino e spiega nel dettaglio, sia chiaro alla sindaca Appendino e anche agli altri sindaci che si oppongono, non se la prendano con il presidente della regione Chiamparino, se la prendano con me. Perché Chiamparino ha semplicemente risposto, con molta responsabilità istituzionale, a un invito che io personalmente gli ho fatto per risolvere un problema emergenziale che si stava creando in Sicilia. Il promotore di quella iniziativa sono io. E alla replica secondo cui in Sicilia l'emergenza è perenne e non la si risolve da anni, il ministro risponde. È vero che in Sicilia la gestione dei rifiuti non funziona, che non ci sono gli impianti per lo smaltimento e che la raccolta differenziata è ancora uno scandalo. Detto ciò, è inammissibile che si dica di no al trasferimento dei rifiuti in Piemonte. La campagna elettorale è finita. In Sicilia abbiamo un'emergenza che ci impone di dover esportare rifiuti in altre regioni. Dire di no è un atto che va contro gli interessi nazionali. Oltretutto da parte di una regione, il Piemonte, che già importa decine di tonnellate di rifiuti dalla vicina Liguria. Allora qualcuno mi deve spiegare perché i rifiuti siciliani sono peggio di quelli della Liguria, conclude sarcastico il ministro Galletti. Nel frattempo il presidente della regione Sicilia è ovviamente alla ricerca di altre destinazioni dove recapitare le tonnellate di rifiuti già in partenza per Torino e poi bloccate. Crocetta rilancia. Sapevo che si sarebbero scatenate reazioni di questo tipo, anche se mi fanno ridere i grillini che dicono no ai rifiuti siciliani, quando fra questi ci sono quelli prodotti a bagheria, comune amministrato da un sindaco 5 Stelle e dove la differenziata è ferma al 4%. Comunque oggi spediamo una prima quantità di rifiuti in una discarica privata a Melilli in provincia di Siracusa. Per il resto stiamo facendo un'indagine di mercato per il trasferimento dei rifiuti in un termovalorizzatore all'estero dove non ci sono preclusioni verso la spazzatura dei terroni.